Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video in viaggio, un video in movimento, un video più dinamico Oggi facciamo l'analisi dei mercati per vedere le novità, quello che è successo, come sta andando Bitcoin ancora molto forte, quindi in questa fase positiva, quello che abbiamo detto dall'ultimo breakout importante che era avvenuto, quello dei 4.400 dollari, per intenderci, quindi quella fase positiva che sarebbe durata Insomma, così è stato, siamo sempre intorno ai 5.2, tenta il recupero dei massimi di 5.5 della scorsa settimana ma vedremo che secondo me potrebbe avere delle difficoltà, anche perché la fase ciclica sta per virare in una fase negativa di brevissimo quindi una fase leggermente negativa, ma lo vedremo sui grafici tra poco vedremo anche Ethereum, è lo sforzo che continua a fare nella rottura e nel tenere la rottura della grandissima resistenza a 170 dollari Oggi quindi un video correlato, diciamo, a queste informazioni con l'analisi grafica ma prima di passare al video volevo dirvi due cose la prima è molto importante, sono contentissimo perché ieri il mio amico Riccardo Masutti mi ha scritto un messaggio per dirmi che finalmente avevano pubblicato su Amazon il libro Mastering Bitcoin, che è praticamente la Bibbia, ragazzi, di chi ama l'eclipto ed era scritto solo in lingua inglese lo hanno tradotto finalmente in lingua italiana è reso disponibile dopo un grandissimo lavoro infatti Riccardo mi diceva che aveva fatto un grande lavoro nella traduzione di questo manuale perché era importante anche averlo in lingua italiana e devo dire la verità, assolutamente positivo io quando mi ha dato la notizia ho detto ne parlerò sicuramente nel prossimo video vi lascio il link in descrizione per chi volesse acquistare il libro Mastering Bitcoin tradotto in lingua italiana, io l'ho visto sicuro altra cosa per chi ancora non è iscritto al canale, ragazzi cliccate sul tasto iscriviti al canale TradingCon per non perdere i nuovi aggiornamenti vedremo in settimana anche di continuare il nostro corso di formazione come fare holding che sta testando una serie di punti interrogativi e anche qualche, non chiamiamola critica diciamo critica costruttiva perché si analizza e si parla anche di tecniche affini e tecniche avverse sono contento perché i commenti di YouTube servono a questo quindi iscrivetemi anche in questo video tutto quello che pensate sull'analisi tecnica e ciclica dei mercati ora ci spostiamo sui grafici e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao bene ragazzi ciao e benvenuti sul grafico indovinate un po' Bitcoin e poi guarderemo Ethereum allora questo è il grafico che stiamo seguendo dal famoso minimo quello avvenuto a dicembre del 2018 avevamo indicato questo famoso disegnino che vi avevo diciamo schernito la volta scorsa dicendo che quasi avevo dipinto l'andamento del grafico senza neanche volerlo perché è assolutamente fortuito però ci sono delle indicazioni che questa settimana il mercato ha fatto che vanno tenute anche in considerazione diciamo anche rispetto a quello che potremmo aspettarci tra i prossimi giorni nei prossimi giorni anche in virtù di quello che vi avevo raccontato iniziamo subito con l'analisi ciclica prima poi andiamo a guardare l'analisi tecnica perché sull'analisi tecnica c'è più da dire questa volta rispetto a quella ciclica l'analisi ciclica di questa fase è abbastanza semplice abbiamo avuto un minimo abbastanza importante che però ragazzi è semplicemente un movimento correttivo di una fase di rialzo precedente una fase di rialzo che ha come fase di massimo vedete qui i 5.003 poi è vero che il mercato è riuscito a raggiungere i 5.500 in questa giornata qui il 10 aprile però non l'ha mantenuti in chiusura quindi diciamo che semplicemente è una classica spike del mercato il livello di equilibrio è attorno ai 5.300 dollari in questo momento anche i 5.200 quindi oscilla in questa fascia perciò da un punto di vista di ciclo questo minimo che abbiamo avuto il 12 di aprile che è un minimo che ha raggiunto in sostanza un livello di prezzo di 4.930 ma ragazzi cosa significa? semplicemente il supporto a 5.000 dollari questo qui è comunque una chiusura ciclica ora qual è il problema di questa fase da un punto di vista ciclico? l'attesa è sempre quella che vedete nel disegno delle frecce quindi un minimo che dovrebbe andare a chiudere questa fase entro il 19-20 di aprile questo minimo che deve andare a fare potrebbe essere inferiore ai 4.930 dollari quelli che abbiamo visto il 12 e potrebbe magari arrivare ragazzi anche con un'estensione attorno ai 4.7 o a fare il pullback della media mobile a 200 periodi ma come ben sapete le fasi cicliche non ragionano sugli eventuali target di prezzo a noi quello che interessa è che da qui in poi come avete visto insomma da qualche giorno in poi si andava verso una fase di debolezza dei mercati che però visto questo ciclo abbastanza importante tendenzialmente rialzista sembra che questa fase di debolezza non abbia grandi target da raggiungere in sostanza potremmo tranquillamente vedere un andamento leggermente ribassista come quello che state vedendo in questi giorni ma in sostanza è una barra di congestione leggermente ribassista magari poi fai una fa una spike arriva a 4.900 4.850 ritorna in chiusura a chiudere sopra i 5.000 dollari e dichiara concluso il ciclo ora è possibile anche una visione differente ragazzi cioè se da questo minimo del 12 aprile parte una rottura dei massimi a 5.500 dollari e insomma si va praticamente in quest'area l'area che avevo già indicato precedentemente che il mercato stenta ad andarci non so se avete visto è arrivato sul lato inferiore poi immediatamente ha ritracciato perché comunque è un'area di forte resistenza se dovesse superarla dovrebbe mettersi all'interno di questa fascia di resistenza però non sappiamo se lo farà da un punto di vista di fase ciclica se andiamo dentro quest'area allora vuol dire che già dal 12 di aprile è stato chiuso un ciclo in maniera estremamente breve però in questo caso perché sarebbe un ciclo di soli 18 giorni vi faccio vedere sarebbe un ciclo di 18 giorni un po' piccolo ragazzi rispetto ai precedenti la mia visione principale è che questa sia semplicemente una metà ciclica e che la successiva metà debba ancora chiudere magari intorno alla 20 di aprile quindi che questa ripartenza sia semplicemente il ciclo di chiusura che poi vado a fare un minimo quindi in sostanza costruire un mini trend ribassista che parte dai massimi del 10 aprile e dovrebbe concludersi entro il 20 insomma più o meno in quella fascia temporale da un punto di vista invece di analisi tecnica le informazioni che ritengo più importanti in questo momento allora abbiamo due livelli fondamentali uno è questa resistenza 5.400 5.500 dollari c'è questa resistenza che è la prima importante il mercato l'ha segnata nella giornata del 10 e poi abbiamo anche un livello di supporto che precedentemente invece non era stato delineato dal mercato questo livello di supporto adesso è attorno ai 4.950 livello di supporto che a questo punto diventa la nostra nuova barra di congestione ve l'ho indicata in questo modo vedete quindi il mercato è chiuso in questa barra di congestione e cosa può fare se non esce da questa barra di congestione continuerà a oscillare come state vedendo potrebbe continuare a oscillare così fino alla chiusura del ciclo proprio perché a volte alcuni cicli ragazzi soprattutto se i mercati sono abbastanza forti a rialzo vanno in chiusura in barra di congestione senza fare grandi movimenti una delle caratteristiche principali di questo mercato è che in questo momento siamo anche in attesa di vedere è il golden cross della media 50 periodi su quella 200 periodi che vedete qui sotto in questa fase che dovrebbe e potrebbe avvenire nell'arco dei prossimi giorni quindi fra pochissimi giorni assisteremo al golden cross vedremo poi come valutarlo e come capire se effettivamente questo incrocio è indice di trend rialzista di medio lungo periodo per quanto riguarda questo mercato o semplicemente fase laterale di congestione perché le medie hanno un piccolo difetto ed è esattamente quello di cui parleremo poi nei prossimi video ok passiamo ad Ethereum invece per quanto riguarda il suo grafico Ethereum ragazzi continua ad avere una forte resistenza di questa zona 170 ero riuscito a superarla la scorsa settimana ma è andato su direttamente alla mia successiva resistenza come vi ho indicato nel precedente video e l'ha diciamo sentita abbastanza quindi si è infilato in questa fascia di resistenza ed è ancora posizionato lì quindi è lì sulla fascia di 170 dollari riuscirà o meno a romperla definitivamente non si sa Ethereum da un punto di vista di analisi ciclica continua la fase di Bitcoin vedete che Ethereum fa cicli ragazzi intorno ai 50 giorni e questa fase da 18 sembrerebbe troppo piccola c'è anche da dire che noi potremmo anche ipotizzare un ciclo ternario diciamo che la stessa identica valutazione vale anche per Bitcoin ma facciamolo solo e unicamente su su Ethereum così diciamo ci evitiamo il problema di farlo due volte per la stessa crypto quindi potrebbe in sostanza cosa fare ragazzi potrebbe fare tre cicli invece di due insomma che li vedete qui uno due e tre posizionati un ciclo così e poi il finale in questo modo questo potrebbe essere l'andamento di Ethereum se avessimo di fronte un ciclo ternario non è quello che abbiamo visto su Bitcoin ancora ci aspettiamo infatti la chiusura entro il 20 di aprile ma su Ethereum valutiamo anche un'alternativa particolare una particolare una particolarità dell'analisi ciclica che potrebbe essere anche fatta così come vedete in questo disegno altrimenti avremmo una semplice fase in cui potremmo assistere in sostanza vi faccio un altro disegnino alla semplice chiusura così del mercato allora questa che dipingiamo in un altro colore così da non confondere ce la facciamo gialla ecco la prima è la versione di Bitcoin in sostanza ragazzi quindi attorno vedete qui alla 20 di aprile andrebbe a fare la chiusura ciclica la seconda è una versione più evoluta con un ciclo ternario insomma leggermente più complesso però lo analizzeremo se entro la settimana che verrà entro questo weekend non ci sarà appunto questa fase di debolezza dei mercati a quel punto rifaremo i nostri conteggi da un punto di vista di analisi lungo su Ethereum in questa fase ci andrei cauti ragazzi state cauti magari perché abbiamo due livelli di resistenza importanti una è la 170 l'altra 190 dollari il mercato a corso su Ethereum particolarmente perché è raddoppiato diciamo oltre anche oltre il prezzo e allora vi ho detto tutto anche oggi sia sui livelli di resistenza che vedete disegnati sia sui livelli di supporto abbiamo analizzato le doppie fasi su Bitcoin Ethereum Bitcoin abbiamo visto in fase ciclica in chiusura verso il 20 di aprile abbiamo visto anche un'opzione di ciclo ternario che porterebbe quindi una fase ciclica differente la stessa sarebbe anche su Bitcoin sarebbe la stessa cosa ragazzi e porterebbe in chiusura a fine aprile il ciclo quindi se non vediamo una fase di debolezza entro il 20 di aprile probabilmente i mercati stanno facendo un ciclo ternario ma significa che resteranno immobili come li vediamo probabilmente per qualche altro giorno quindi così come li stiamo vedendo in questa zona di congestione per quanto riguarda Bitcoin tra 5.000 e 5.500 e per quanto riguarda Ethereum tra il nuovo supporto appena nato a 160 155 dollari e questa sua ampia fase di congestione con la resistenza a 170 e la resistenza a 190 dollari io vi auguro un buon lunedì iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché ci saranno anche tante altre novità nella prossima settimana e cercherò anche in questa di continuare il nostro corso di formazione come fare holding nel medio periodo e farlo bene ragazzi ok ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti